Qui alla Rocca Malatestiana domani sera ci saranno le note, riecheggeranno le magiche note di Lucio Dalla. Però già noi sentiamo qualche musica, qualche nota, qualcuno che canta. Facciamo già le prove. Eh sì, bisogna prepararsi bene perché è un evento importante quello che faremo di domani, esatto. Grandi protagonisti. Gli scramenarini prima di tutto, insieme a Piazza Grande il nostro tributo a Lucio Dalla che portiamo in giro un po' per l'Italia dal 2012, da quando purtroppo Lucio se n'è andato prematuramente. Siamo contenti di tornare a Fano per questo Dalla Day, come profondo il mare, che è un evento che oltre al concerto delle 21 e 15 prevede anche alle 16 e 30 un incontro con due amici, collaboratori storici di Lucio Dalla che sono Marcello Balestra, discografico che ha lavorato con Lucio per tanti anni, e Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, che racconteranno un po' il Lucio inedito e anche il Lucio legato al mare, perché comunque vogliamo fare questo. E poi il grande concerto con Iskra e tutta la banda di Piazza Grande è con me anche. Farete pezzi storici, il repertorio ne avete tanti. In assoluto tutte le hit, Caruso, Attenti al Lupo, Stella di Mare, tutti i brani però legati al mare, anche La Casa di Riva al Mare, i marinai eccetera, qualche brano magari anche meno, cioè popolare sì. Facci sentire qualche nota. E vado avanti con... E la luna è una palla ed il cielo un biliardo Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo Marco dentro un bar Chissà cosa farà Poi c'è qualcuno che trova una moto Si può andare in città Vi aspettiamo tutti sabato 7 luglio alla Rocca Malatestiana insieme a Iskra Menarini, Piazza Grande per il Dalla Day come profondo il mare Non mancate!